Buongiorno, bentrovati a mattino 6, la nostra rassegna stampa come ogni mattina inizia dalle le prime pagine dei quotidiani regionali, allora andiamo a vedere insieme il centro nelle sue quattro edizioni provinciali, partiamo da quella di Pescara, giardini incolti, stangata in arrivo, nuove regole del comune di Pescara e al parco Florida parte la vigilanza, sotto la testata approvata la maxispesa Abruzzo all'Expo di Dubai, missione che costerà 600 mila euro, poi ci spostiamo nella fotografia a centro pagina, guerra agli abusivi, sgomberati due appartamenti, blizza all'alba a Raccitelli nella giornata di ieri, poi nella seconda parte della nostra rassegna andremo a vedere anche questo servizio. Sotto la fotografia Oma, due aziende per evitare il crack, Castiglione, Marsilio e Febbo incontrano i dipendenti a rischio, la produzione non si ferma, sono 330 i dipendenti della Oma che rischiano di perdere il posto di lavoro. Poi ancora andiamo a vedere all'interno, inchiesta archiviata, il GUP Rigopiano, accuse infondate agli investigatori sulle accuse di omissioni d'atto di ufficio e abuso d'ufficio nei confronti degli investigatori per il caso Rigopiano. La procura ha presentato al GIP una richiesta di archiviazione di sei pagine e il GIP Antonella di Carlo ha disposto l'archiviazione del procedimento. Ancora l'operazione Montesilvano, case sottratte alla malavita, due abitazioni su Corso Umberto, tre in via Vestina e una in via Isonso, sei gli immobili che entreranno a far parte del patrimonio comunale di Montesilvano dopo la confisca alla malavita. Ancora il calcio, torneo in Canada, il Pescara apre agli abruzzesi nel mondo. Poi le altre notizie, intervista all'esperto, i malati di dolore sono 280 mila, ecco come curarsi in Abruzzo, giustizia, protesta nella nostra regione, in sciopero, oltre 6 mila avvocati rinviate, centinaia di cause. Poi la storia di spalla, un'età da record, Maria, pensate a 110 anni, è la nonna più longeva d'Abruzzo, si chiama Maria Antonia D'Amore, ed è la donna più longeva della nostra regione. Ha spento domenica 110 candeline tra le 15 persone, 14 donne e un solo uomo, più anziane d'Italia. Nel taglio basso troviamo il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il titolo se internet cancellerà anche i postini, pare di sì, insomma, pare che questa affermazione sia vera, almeno secondo lo studio dell'agenzia di comunicazione di Klaus Davi, condotto per conto di siti, poste, payment, una società di servizi postali, a pagarne le conseguenze, si dice nell'articolo, saranno soprattutto i più anziani per i quali i postini restano un punto di riferimento. Andiamo adesso nelle altre edizioni provinciali del centro, edizione teatina che apre con questa notizia, multe per chi salta le visite mediche. Chieti, liste d'attesa, la ASL sanziona chi non si presenta senza avvisare. Nella fotografia a casa l'incontrada viene onorato il sottotenente scomparso, scuola materna intitolata Di Toro, carabiniere eroe. Ritroviamo la notizia dell'archiviazione che riguarda le accuse e gli investigatori nella vicenda Rigopiano. Scendiamo ancora e andiamo a Lanciano, al mercato del sabato, anche i prodotti tipici, arrivano le bancarelle con gastronomia e prodotti tipici per rilanciare il mercato del sabato in città. Sarà pubblicato il 30 di ottobre il bando per l'inserimento di posteggi alimentari al mercato. Poi a Cupello la discarica del Civeta dalle fiamme benzene nell'aria. Poi la Corte dei Conti accusa il Comune di Chieti. Ecco la relazione sui bilanci. Grave irregolarità. 10 milioni di residui insussistenti. Nuovo allarme dunque sulle finanze del Comune con la Corte dei Conti che denuncia queste irregolarità. L'appello mancano 10 milioni. La magistratura contabile segnala l'esistenza di diversi aspetti problematici e chiede all'amministrazione di Primio di invertire la rotta. Andiamo a vedere anche l'edizione teramana del quotidiano Il Centro. In apertura altri 70 posti letto per gli anziani. L'Asla aprirà all'inizio del 2020 in nuovi centri sia a Teramo che a Giulianova. E poi per quanto riguarda il calcio siamo nella fotografia. Il Teramo ha ingranato. Primo squillo in trasferta. Vittoria per 2 a 0 a Francavilla Fontana contro la Virtus. Poi schianto e mistero sul giovane morto dopo l'incidente a Colonnella. Sindaga ora sul passato dell'albanese rimasto ucciso. Andiamo a vedere le altre notizie. Giulianova Tribuiani ritira il ricorso sulle elezioni. L'ex candidato a sindaco del centrodestra rinuncia all'azione che potrebbe riportare Giulianova al voto anche in assenza di un accordo politico fra la Lega e il sindaco Iwan Costantini. Poi oggi i funerali con Roseto che piange il benefattore Mazzarella. Questo per quanto riguarda la prima pagina teramana del centro. Adesso andiamo nell'edizione di L'Aquila Vezzano sul Mona. Il titolo di apertura Piano Scuole lo scontro si allarga. L'opposizione all'attacco del progetto comunale di riassetto all'Aquila. Nella fotografia di centropagina Brigata Maiella festa con Malvestuto e gli altri eroi. Sul Mona inaugura un monumento. Usura 5 anni all'ex arbitro di A. Vezzano. Altobelli coinvolto nell'inchiesta Pirania condanna dopo il rito abbreviato. Continuiamo con i giudici che ridanno il lavoro a Diorio ma è in pensione. L'ex rettore Ferdinando Diorio non doveva lasciare l'Ateneo. Potrebbe tornarvi ma ora è in pensione. La Corte d'Appello di Roma revoca la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro con l'Università Aquilana. E poi nuova stazione elettrica via libera ai lavori a Celano. Andiamo a vedere ora cambiando testata la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. In apertura lo sfratto agli abusivi di Rancitelli, Blitz all'Alba, Pescara da parte delle forze dell'ordine per liberare due alloggi popolari occupati da anni da famiglie senza alcun titolo. Entro fine anno previste altre 30 operazioni. Poi Cupello roghi nella discarica. Marsilio blinda l'assessore Campitelli dopo le polemiche dei giorni scorsi. La regione respinge al mittente le critiche dopo il quinto incendio nella terza vasca della discarica gestita dalla Cupello Ambiente che fa capo al Civeta. Poi di spalla Asp nomina indigesta, revocata e pace in giunta. Il leghista Fioretti accetta il passo indietro e torna il sereno. Poi a Pescara ipotesi ex cofa per l'università. La scelta del comune Cozza contro i progetti di sviluppo turistico dell'area sul lungomare sud. Poi l'emergenza senza segretari piccoli comuni verso la paralisi. In Abruzzo il 79% dei comuni rischia di fermarsi. Il presidente del Lanci d'Alberto scrive a ministro e governatore. Nella fotografia l'Aquila a Veglione superaffollato a Fonte Cerreto. Capodanno caos. Un patteggiamento. Prima sentenza contro uno degli organizzatori. Gli altri due sono rinviati a giudizio. Nella discoteca presenti 800 persone. Più di 300 in fila all'ingresso contro le 150 autorizzate. Nel taglio basso parliamo di olio. L'oro d'Abruzzo sarà una grande campagna olearia. È partita sotto i migliori auspici. La campagna olearia nel Pescarese. E come già negli anni passati, in anticipo sui tradizionali tempi di raccolta, si prospetta comunque una buona campagna, sia per qualità che per quantità. Andiamo nel taglio alto. L'Aquila rinasce. Torna a Gongon con Mogol omaggio ai grandi cantautori. A Roseto il basket in lutto per la morte di Pino Mazzarella. Aveva 95 anni. E poi ancora il calcio di Serie C con il turno infrasettimanale che ha visto impegnato il Teramo. A Francavilla Fontana. Prima vittoria in trasferta. Martignago su rigore bombaggi. Segnano le reti decisive dei biancorossi sfortunati gli avversari. Fermati in più occasioni da Tomei e dai Pali. Siamo arrivati così alla prima pagina della città. Il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura. Vittima e superstite. Perfetti sconosciuti. Incidente mortale. La Salma del Banese resta in obitorio. Il connazionale era in Italia da qualche giorno. Nel taglio alto a Teramo vandalizzato. Il parco in via di Albentis. Poi la rubrica. Quanto mi costa fare pubblicità per farmi conoscere. Poi ancora aveva 96 anni. Addio Mazzarella. Modernizzatore rosetano tra i fondatori del Lido delle Rose. A Cologna. Pini pericolosi sull'Adriatica. Vanno abbattuti. Poi schianto tra tir. Grave un camionista di Alba Adriatica. Poroso incidente nel Frusinate. Lungo la Sora Cassino. Strada che è rimasta bloccata. A centro pagina. La fotografia con il Teramo. Il che cresce. Batte la Virtus. Francavilla. Per due gol a zero. Prima vittoria in trasferta. Per il Diavolo. Nel taglio basso la Lega spegne tutti i rumors sulle presunte trattative con Costantini. A riguardo del ricorso sulle elezioni comunali. Poi Tortoreto. Nuove idee sul contrasto all'erosione dalla visita alle dune di Riccione. Per la viabilità. Frane Asfalti. La provincia apre i cantieri a Tottea. A Castagneto. E in Val Vibrata. Lasciamo le prime pagine regionali. Adesso, come di consueto, apriamo lo spazio dedicato ai titoli dei principali quotidiani italiani. Il Corriere della Sera apre così. Copasir Conte attacca Salvini. Noi corretti. Lui spieghi i legami con Mosca. La replica in difficoltà. E mi accusa. Lettera intanto di Gualtieri a Bruxelles sulla manovra definita espansiva. Arriva la carta bimbi per le famiglie. Una carta da 400 euro al mese che sarebbe allo studio del governo. Alleanze a rischio. L'editoriale di Angelo Panebianco. L'Europa non balla da sola. Il titolo della riflessione odierna. Di spalla. I russi entrano in Siria. Trump assolve la Turchia sui kurdi. Tolte le sanzioni. Questo l'annuncio di Trump. Andiamo adesso a centropagina. La sentenza della consulta destinata a far discutere permessi premio anche ai mafiosi all'ergastolo. La sentenza contro la formula ostativa del carcere a vita. Poi in Gran Bretagna registrato in Bulgaria indagini sul traffico di migranti. L'orrore nel parcheggio in un tir. Trovati 39 corpi. Lo Scania degli Orrori è stato denominato. Questo tir il cui conducente è stato arrestato proveniva dal Belgio. Sono sconvolto, ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson. Sulla Repubblica il titolo di apertura Salvini rispondi su Mosca. Attacco frontale. Movimento 5 Stelle PD vogliono la commissione di inchiesta. Un'indagine conoscitiva. Conte chiarisca ruoli e rapporti con Savoini. Finisce sotto processo nella TV di Stato. la trasmissione Report che annuncia un'altra puntata sui legami fra la Lega e la Russia. Il presidente della Camera FICO intanto. Rai più coraggio e una riforma urgente. Veramente di questo si parla ormai da decenni. Viale Mazzini voglia di censura e guanti bianchi per un vecchio amico. E poi il personaggio Giorgia Meloni il rugito dell'altra destra. Ritroviamo anche la notizia che riguarda la sentenza della consulta. Boss e terroristi condannati all'ergastolo si è permessi anche per loro. Ma deciderà caso per caso il giudice l'analisi, l'umanità nelle mani dei giudici. Scrive Luigi Manconi. E poi il camion trovato in Gran Bretagna con 39 cadaveri di migranti. Così si muore sul camion della speranza. E poi l'editoriale di Ezio Mauro. La libertà al termine della notte. Questo è il titolo della riflessione moderna sulla Repubblica. Andiamo sulla stampa. Il titolo di apertura. Conte difende i servizi estranei a Russia Gate. E poi attacca Salvini. L'audizione al Copasir che è stata segretata. Ora tocca a lui chiarire i rapporti con Savoini. Per lui si intende Salvini. Il premier si giustifica. Se avessi informato i ministri avrei violato la legge. Poi ancora a centropagina Jennifer Lopez. Spogliarellista sul set. Nessuno mi giudichi. Il set è quello di Hustlers. Le ragazze di Wall Street presentato ieri alla festa di Roma. Andiamo avanti sul Fatto Quotidiano. Il titolo di apertura. Conte risponde sugli Stati Uniti. Salvini tace e censura il caso Russia. Il premier mai parlato di 007 con Trump e Barr. Si sgonfia l'afferre servizi segreti. La Lega vuole imbavagliare Report. Questo è il titolo del fatto. Intanto a Napoli l'Aspi chiude la tratta di Capodichino. I viadotti di autostrade. Parla l'ispettore su questi punti non porterei i miei figli. Altre notizie ancora dopo gli scoop del fatto. Truffa da un miliardo. Arrestati i capi di Bio On. E poi la valigetta del mediatore Eni Nigeria. Hard disk segreto aperto dai PM. Nel taglio alto la sentenza sul carcero stativo. Oppure la consulta antiergastolo. I boss minacceranno i giudici incostituzionale. Il divieto di permessi premio. C'è anche lo spazio per la sentenza sul mondo di mezzo. Su Mafia Capitale. Il nero può uscire. Arrestati i politici corrotti. PD e destra. Andiamo avanti. Sul sole 24 ore. In apertura la Bio On. Il crack brucia un miliardo di euro. Risparmio tradito. Accuse di manipolazione del mercato. E falso in bilancio. Scossone per Lime. La società valeva un quinto del listino. Sotto tiro. Finiscono regole e controlli. E qui vedete l'andamento del titolo. Che ha bruciato, come detto, un miliardo. Gli effetti. Per il mercato un conto da 400 milioni. Già usciti i PIR. 26 anni di scandali. Trucchi sui bilanci e colpe dei revisori. C'è sicuramente qualcosa da rivedere in questi meccanismi. Andiamo adesso alle manette agli evasori. Rischio di carcere per le nuove soglie. Sanzioni più alte. Siamo al DL fiscale. Spazio alla responsabilità. Da decreto 231 per ora. Senza misure interdittive. Effetto dell'entrata in vigore per chi ammette fatture false. E nasconde la contabilità. A centropagina alimentare, biscotti alla Nutella e assunzioni al sud. Ferrero 120 milioni investiti in Basilicata. E poi per quanto riguarda l'occupazione. Reddito in sei mesi 8.800 offerte di lavoro. Curriculum dei disoccupati. Oltre quota 100.000 assunzioni ancora al palo. Passiamo ad avvenire. Il titolo di apertura ci riporta in Gran Bretagna. Carico di morte. Fermato a Londra. Un tir con 39 cadaveri. Migranti soffocati nel container. Italia-Libbia. I nodi del rinnovo dell'intesa. E poi l'ipotesi evacuazione dei profughi. Le vittime viaggiavano probabilmente sulla rotta balcanica. Il camion è passato dal Belgio. Il caso Russiagate 007 strane. I conti si difende e rilancia per il Premier. I problemi con Mosca non sono gli Stati Uniti ma Salvini e Savoini. La sentenza coppie omosessuali no alla fecondazione consulta giusto il divieto di eterologa. Ci spostiamo sul manifesto. Il titolo solo andata sul camion degli orrori. 39 migranti di cui un minore trovati morti nel container di un tir. La scoperta fatta dalla polizia britannica nell'Essex sulla costa sudorientale dell'Inghilterra. L'ennesima tragedia dell'immigrazione di fronte a un'Europa che chiude gli occhi e blinda i confini. Poi ancora ergastolo stativo. Si apre un varco. La Corte Costituzionale boccia il divieto automatico dei permessi premio. Ci spostiamo sul messaggero in apertura. Russiagate. Conte accusa Salvini. Abbiamo visto l'audizione al Copasire del Presidente del Consiglio. Punti di acchiarire sugli incontri tra 007 e Barri. Leader leghista. Missioni per aziende italiane. Queste le sue spiegazioni sul caso Savoini. Poi non era mafia, giustizialisti spiazzati dallo Stato di diritto, scrive Carlo Nordio sul cosiddetto Mondo di Mezzo. Restando a Roma, emergenza capitale. Il caso Raggi scuote i 5 Stelle. Più poteri a Roma sfida di Maio PD. Poi ancora, Mondo di Mezzo. Lo sfogo di Buzzi. Una tangentopoli inesplorata dopo la sentenza. Punta alla scarcerazione. Nove arrestati. Andiamo a vedere il quotidiano Il Tempo, restando ai giornali romani. Il titolo principale, Miracolo Manuel, vi amo romani. Grazie Roma. E queste le parole di Bortuzzo, che regala oggi una lezione di vita e speranza alla città, che lo ha gambizzato. Poi, maxi stipendi che fanno gola. La casta non è così male. 16 mila in corsa per 40 posti alla Camera. Contratto blindato. Paga da favole. Benefit per farsi assumere a Montecitorio. C'è la fila. Su Libero, retata di sfruttatori degli immigrati. Accoglienza uguale delinquenza, scrive Il Quotidiano di Feltri. 18 arresti in tre regioni, con i fondi dei rifugiati, ristrutturavano viglie e organizzavano feste. La Morgese non ferma gli sbarchi, il ministro dell'interno, ma moltiplica i posti a Lampedusa. L'ospitalità continua. Ci spostiamo sulla verità. Il titolo di apertura, quelle domande sull'I007, a cui Conte non risponde il premier interrogato per oltre due ore al COPASI, il interrogatorio però secretato. Nel racconto di Giuseppi, gli incontri tra il ministro Barr e i vertici dei servizi, c'è un buco di due mesi. Lui dice che l'Italia è estranea, ma sette giorni fa Trump con Mattarella sosteneva il contrario. Nel taglio centrale, il PD vende gli operai per salvare le poltroni, ha votato l'emendamento grillino, che sconfessa la sua legge e mette a rischio 12 mila posti di lavoro. Andiamo sul mattino di Napoli. Il titolo Napoli, il caso del viadotto, la tangenziale sarà gratis. Lettera del ministero, il ponte di Capodichino va messo in sicurezza, i costi dei mancati incassi a carico della società, caselli aperti da domani. Poi la sentenza, la consulta, il gasto lo duro per i mafiosi che è illegittimo. Il Russiagate, Conte difende i servizi, accusa Salvini. Poi siamo chiaramente allo sport perché era giocato il Napoli. Vittoria con il cuore 2-3, qualificazione più vicina. Maramertens, Salisburgo KO, Drais supera Diego. Poi il secolo XIX, il titolo di apertura, caso Rashagate, Conte si assolve e attacca Salvini. Deve spiegare, io corretto, i nostri 007 non sono coinvolti. L'ex ministro, chiarisca, che faceva a Mosca controbatte Conte. Poi la consulta che dice sì ai permessi per i mafiosi all'ergastolo, anche se non collaborano con la giustizia. E poi blitz da acrobati della finanza, infiltrazioni sul ponte della A12. Questi controlli che proseguono appunto sulle infrastrutture autostradali. Andiamo a vedere adesso i principali quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, chiaramente c'è la Champions in primo piano. Inter, Oktoberfest, battuto 2-0 il Dortmund con Lautaro e la Mossa a sorpresa esposito. Conte torna in corsa, l'argentino apre, il 17enne da record entra e dà la scossa. Era il mio sogno fin da bambino, Candreva raddoppia al novantesimo. Poi andiamo a vedere Diego Mertens, due golle, supera pure Maradona. Napoli mette le ali a Salisburgo, il Belga sale a 116 reti, insigne e segne e corre d'Ancelotti. De Laurenti si apre a Ibra e dice decide lui. Juve di Balatoppi, il tridente da Bar, ora Stuzzi Casarri dai supero a Stella e con CR7 e Iguain. Forma chiaramente una coppia molto prolifica. Poi andiamo a vedere le altre notizie. Infermeria, Roma, la Lazio punta su Milinkovic. La Roma ha otto giocatori fuori Europa League stasera con Borussia e Celtic, le due romane. Intervista al presidente degli allenatori, Ulivieri, panchina d'oro a Mihailovic. È una bella idea. Poi, eutanasia di una medaglia d'oro. La campionessa paralimpica belga aveva 40 anni, vinse nell'Atletica a Londra nel 2012. Marieke Fairfort ha scelto di morire, soffriva di una paralisi progressiva. Domenica il GP del Messico, fenomeno Leclerc, il segreto nella testa. Ecco come allena la sua forza mentale, Karl Leclerc. Poi andiamo sul Corriere dello Sport, anche qui la Champions in primo piano. Napoli da baciare, impresa a Salisburgo, vittoria per 2-3. E poi Conte alla Morigno, Inter di ferro. 2-0 al Dortmund, queste le due partite delle italiane giocate ieri. Poi c'è l'Europa League, Roma, Fienga chiama De Rossi. Il Sio giallorosso offre a Daniele un ruolo nel club. Poi Lazio a Glasgow, in gioco l'Europa, ore 21. Inzaghi punta su Caicedo e Correa. Andiamo a vedere poi di spalla. Così ho riconquistato la Juve, Paolo 10, Paolo Lostinato 10 in condotta. E poi ancora Icardi gode, Parigi mi ha dato la felicità. Il tango di Maurito, scrive Italo Cucci. Andiamo su Tutto Sport. L'Auto Aroca andreva 2-0, Inter sì, con la vittoria. che mette una serie ipoteca sulla qualificazione agli ottavi. Mertens e Insigne che Napoli, vittoria anche per il Napoli che abbiamo già visto. Nel taglio alto Juve, Nuova Era, aumento di capitale da 300 milioni. Oggi assemblea straordinaria dei soci. Poi ancora per il Torino, il tecnico ai giocatori Mazzarri. Non vi giocate solo il Toro. Andiamo a vedere poi ancora lo speciale di Marani su Skype a Parelli nel cuore laziale da 40 anni. Questo per quanto riguarda anche Tutto Sport, che era l'ultima prima pagina di questa prima parte di Rassegna Stampa. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Andiamo a vedere anche le previsioni del tempo per le prossime ore. e poi torniamo con la seconda parte della nostra Rassegna, in cui andremo ad aprire, come sempre, le pagine interne dei quotidiani regionali e a vedere anche i servizi andati in onda ieri nel corso dei nostri telegiornali. Vi aspetto. Di nuovo insieme per la seconda parte della nostra Rassegna Stampa. Andiamo a dare un'occhiata alle pagine interne dei quotidiani abruzzesi. In primo piano sul centro, la giustizia che diventa un caso, scioperano 6 mila avvocati fino a domani. Slittano centinaia di udienze, compresa l'inchiesta su Rigopiano per la maxiprotesta contro lo stop alla prescrizione. Imputato per sempre, oggi a Chieti, giudici, PM e penalisti si confrontano sul processo senza prescrizione. Poi, la decisione del Tar, la regione perde il primo round contro l'associazione dei Bed and Breakfast, il Tar, che al Tar Abruzzo ha chiesto di annullare la delibera 307 di quest'anno, con la quale sono state delineate le nuove linee di indirizzo per la somministrazione della prima colazione nei Bed and Breakfast. Scusate. Andiamo nel taglio basso. A Abruzzo mancano decine di vigili del fuoco, il sindacato Conapo scende in campo, chiede più personale e stessi stipendi delle forze dell'ordine. Restiamo sul centro, nella pagina Abruzzo la marsicana diventa un caso, Maria compie 110 anni e la nonna d'Abruzzo aveva 6 anni quando si salvò dal terremoto che fece 30 mila morti, domenica ha battuto il record d'età, gli auguri del sindaco di Cerchio. Di spalla le dimissioni, l'ultimatum di Marsilio Affioretti sul caso Longo. Andiamo a vedere adesso la pagina Abruzzo sul messaggero. L'Aquila Teramo, le nozze difficili, camere di commercio, salta la fusione, commissario in vista. L'assessore regionale Febbo per ora si sfila, ci deve pensare il Ministero. L'allarme di podda di Confindustria, subito un incontro per capire il da farsi. Dopo il dietro front dell'ente Teramano che è tornato sui propri passi, soddisfatto solo Cipolletti del Movimento 5 Stelle. Per Chieti Pescara scelto il segretario, la nomina Michele De Vita arriva dalle Marche, sarà il segretario generale della Camera di Commercio Unica Chieti Pescara. E poi, liscio come l'olio, la campagna 2019 promette un prodotto di qualità raccolta in anticipo e live in salute. Per gli esperti sarà l'anno del riscatto dopo un 2018 segnato dai parassiti. Dati sulle quantità variabili a seconda delle zone, DOP con il 50%, in più avremo grandi extravergini. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo della città. Gli abruzzesi puntano sulle auto elettriche. Per il 46% rappresentano il futuro della mobilità assieme alle macchine connesse alle app. Stili di guida, tra i comportamenti da migliorare, l'utilizzo del telefono al volante, la distanza di sicurezza e l'utilizzo delle frecce. Per quanto riguarda la guida autonoma, la maggioranza degli abruzzesi, il 54%, ha una considerazione positiva delle auto che guidano più o meno da sole, perché pensano che siano più sicure. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro. Proseguiamo con notizie dalla Regione. Per l'Expo Dubai, l'Abruzzo spenderà 600 mila euro. La Giunta approva la somma per mettere in mostra le eccellenze della Regione. La cifra è alta, ma all'esposizione di Milano il costo raggiunse i 3 milioni. Nel taglio basso, segretari comunali, il sindaco finisce al ministro dell'interno. Ho avuto un lapsus freudiano guardando la foto del sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che è il nuovo presidente dell'Anci Abruzzo, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Andiamo adesso nelle pagine di Pescara. Inchiesta archiviata. Il giudice Rigopiano, infondate le accuse agli investigatori, un esposto presentato a giugno dagli avvocati di Lacchetta, aveva ipotizzato abusi e omissioni d'ufficio. Nel mirino anche le analisi dei telefonini delle vittime, ma per i magistrati non sono stati commessi reati. Ancora guerra all'illegalità, case popolali, Brizza a Rancitelli, via agli abusivi da due appartamenti, operazione delle forze dell'ordine all'alba, in via Lago di Capestrano, alla presenza del sindaco Masci e dell'assessore del Trecco. Gli alloggi sono stati subito riassegnati, un disabile tra i nuovi proprietari. Le reazioni, Pettinari dice, azione troppo morbida, serve anche un presidio. Poi via Lago di Borgiano con la polemica, stop a nuovi alloggi per gli sfollati. Blasioli, il Comune ha cancellato le priorità per le assegnazioni. C'è anche un'operazione dei carabinieri, droga arrestato un 49enne, spacciava eroina in via Tavo. Tra poco andremo a vedere il servizio che riguarda proprio questi sgomberi. Prima però andiamo a vedere come tratta la notizia. Il messaggero Rancitelli, case liberate dagli abusivi, operazioni interforse per lo sgombero di due famiglie che occupavano alloggi dell'Ater senza averne diritto. Gli appartamenti sono stati riassegnati nella stessa giornata. Masci e del Trecco, dicono, altre 30 azioni arriveranno entro la fine dell'anno. Dunque noi possiamo così andare a vedere il servizio che riguarda proprio l'operazione, il blitz di ieri a Rancitelli. Imponente operazione di polizia all'alba di oggi in via Lago di Capestrano, nel quartiere Rancitelli di Pescara, per lo sfratto di alcuni occupanti abusivi delle case popolari. In azione uomini della Polizia di Stato, carabinieri, polizia municipale, vigili del fuoco, sanitari del 118, personale di Enel e Ater. Presente in via Lago di Capestrano anche il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che sabato scorso era sceso in strada con alcuni residenti in via Lago di Borgiano, a due passi da via Lago di Capestrano, per denunciare il problema degli sfratti e della criminalità, e soprattutto dello spaccio di droga nel quartiere. Dopo tante battaglie noi siamo riusciti a far mettere in bilancio regionale 400 mila euro per lo sfratto degli occupanti abusivi. Purtroppo con questi sono fondi esigui e si possono fare solo 20 sfratti. Io ho chiesto di colpire esclusivamente delinquenti, criminali, pregiudicati. Non so chi è stato colpito oggi. Io mi auguro solo che non sono stati colpiti i poveri anziani morosi. Ecco, se si colpiscono i delinquenti va bene, questo lo verificheremo. Quindi un primo inizio, sì, mi dicono che ci sono stati solo due sfratti, molto poco. Facciamo i numeri. Nella provincia di Pescara noi in questo momento abbiamo 250 occupazioni abusive. Le immagini che oggi sono stati fatti due sfratti. È un inizio, sì, sicuramente è un inizio, ma qui c'è ancora Fontanelle, via Caduti per servizio, non è stato fatto nulla. Via Rigopiano, quartiere caldissimo, non è stato fatto nulla. Il ferro di cavallo qui vicino non è stato fatto nulla e abbiamo altre zone calde. Comunque è un inizio, sì, tante battaglie pagano. È un inizio, non dobbiamo mollare però. Bisogna continuare a combattere a testa alta e con la schiena dritta, anche rischiando la propria vita a volte. Qui voglio vedere polizia, carabiniere, guardie di finanza. La polizia municipale non è messa nelle condizioni di fare la lotta al crimine, non serve per fare la lotta al crimine. Loro possono fare un punto di informazioni, va bene, ma io voglio vedere quelle macchine lì, della polizia, dei carabiniere, della guardia di finanza, presidi fissi, anche con l'esercito. Solo loro sono in grado di fare la lotta al ghia perché sono equipaggiati. La polizia municipale non ha neanche i guanti antitaglio, quindi io vado a tutela della polizia municipale. 250 abusivi in provincia di Pescara rappresentano un numero enorme proprio per questa provincia. Enorme, enorme e purtroppo la maggior parte di questi sono criminali pluripregiudicati che esercitano violenza. Perché io mi accanisco, consentitemi il termine, ai confronti di queste persone? Perché tanti di loro esercitano violenza sulla gente onesta e la gente onesta non riesce più a vivere, non riesce a vivere. Qui c'è bisogno di coraggio, di coraggio e di fermezza perché se c'è coraggio si può combattere il crimine, se non c'è colaggio non lo possiamo fare. Quindi, ripeto, ora, quando andranno via tutte queste macchine, qui ci sono polizia, carabiniere e due sfratti, qui tornerà tutto come prima. Quindi che cosa serve unitamente allo sfratto? Lo sfratto va bene, ma cosa serve? Unità fisse, di polizia, presidi fissi H24. Perché oggi pomeriggio che andiamo via tutti, non c'è più nessuno. E il cittadino onesto rimane solo. Questo è il problema. Andiamo avanti. Sempre sul messaggero, torniamo alla pagina di apertura di Pescara. Sfratto allo SPAZ, solo se il bando si può annullare. L'ipotesi di ospitare parte del MIBE nell'ex scuola Villa Fabio diventa un caso politico. Giallo sulla richiesta. Atti informali. Opposizione all'attacco ieri in commissioni di garanzia e vigilanza. Le dirigenti su posizioni diverse sulla procedura per la revoca. Università, Alex Cofa, Parco Nord e la City nei piani per la città futura. Interventi inseriti nel DUP, atteso lunedì in consiglio. Antonelli frena. Non c'è nulla di definitivo. Poi nel taglio basso, Parco Florida in gestione a un privato. Più cura e sicurezza all'area affidata. La SD Green di Paolo Piovillico Santilli dice, in arrivo chiosco, bar, giochi e telecamere. Completiamo le pagine di Pescara sul messaggero. Andiamo a vedere quella dell'area metropolitana. Senza segretare i piccoli centri alla paralisi, il 79% delle amministrazioni risulta scoperto. Soffrono soprattutto i paesi dell'interno pescarese e dei crateri sismici. Il presidente del Lanci scrive al governatore Marco Marsilio e al ministro Lamorgese per sbloccare il bando di due anni fa. Poi la sentenza al palto revocato Pianella evita di pagare un milione. Il Tar accoglie il ricorso del comune respinta alla richiesta di maxi risarcimento per la vicenda del Global Service. Nel taglio basso, a Montesilvano, via Basilicata, l'antenna va spostata. E poi il raduno, speleologia, letto, manoppello, capitale. Torniamo sul centro, ancora pagine di Pescara. Verde, in arrivo le nuove regole, multe a chi non cura i terreni incolti. L'assessore Santiglia annuncia un giro di vite per le aree abbandonate. Intanto il comune pota le palme sul lungo fiume. E parte la vigilanza nel parco dello spaccio. Affidata alla gestione del Florida, un'associazione, telecamere e otto dipendenti per controllare l'area. Marciapiedi inaccessibili sulla strada dell'ospedale. I pedoni incontrano difficoltà a causa della pavimentazione dissestata. Andiamo avanti. Il caso Oma. Rischio crack, ma si lavora lo stesso. Castiglione, società sull'orlo del fallimento, ma la produzione non si ferma. Marsilio e Febbo incontrano i dipendenti. Nelle pagine di Montesilvano, il patrimonio della città. Sei case sottratte alla malavita e destinate a scopi sociali. Dopo la villetta di Via Mincio, altri beni saranno restituiti presto all'amministrazione. Uno degli appartamenti è in via Isonso, dove i residenti denunciano caos e prostituzione. Città Sant'Angelo prepara la mappa anti-emergenza. Vertici in comune per Razzetti incontra i responsabili della protezione civile. In caso di calamità, gli sfollati saranno ospitati nei palazzetti e nel campo sportivo. Andiamo avanti. Porto a Francavilla. Cominciati i lavori. Apertura la prossima estate. Tra gli interventi, la viabilità portuale e la banchina dedicata agli ormeggi. L'obiettivo è di assicurare 95 approdi per imbarcazioni dai 7 agli 11 metri. Campo sportivo di San Giovanni Alta. Nel degrado da anni la denuncia della minoranza. Nella pagina della Val Pescara, penne i servizi, convenzione per la piscina, sconti per le fasce deboli. Accordo del comune con la concessionaria dell'impianto di Contrada Campetto. Le agevolazioni sono destinate alle famiglie bisognose, agli anziani, agli studenti e ai disabili. A Toccora Casauri, a colpo notturno in un'azienda, rubati olio e vino per 80 mila euro. E poi il PD è merito nostro. Se le terme lavorano, le terme di Caramanico, Paolucci e Mazzocca attaccano. Che fine hanno fatto contratti, accreditamenti e fondi. Siamo così arrivati, sempre sul quotidiano Il Centro, alle pagine di Chieti. Liste d'attesa, scattano le sanzioni, multe per chi prenota le visite e non si presenta senza avvisare. Pugno di ferro della ASL. I cittadini che rinunciano all'esame devono comunicarlo tre giorni prima. Dal 2016 scoperti 26.240 furbetti per 3.505 di loro. E' già partita una richiesta di pagamento. Il Congresso nazionale Chieti Capitale dei Musei Scientifici, appuntamento per la prima volta ospitato in Abruzzo. E poi ancora il Comune controlli sulle finanze. La Corte dei Conti accusa trovate gravi irregolarità. Bilanci sotto esame con la relazione dei giudici. 10 milioni di residui insussistenti. Ora l'amministrazione ha due mesi per mettersi in regola. Ma rischia la paralisi. Poi ancora aggredisce moglie e figlio allontanato. Vasto schiaffi e botte anche davanti alla figlia di sei anni. Il difensore è innocente e ama i suoi ragazzi. Civeta patto per la gestione pubblica. La discarica di cupello. Ecco le richieste dei residenti dopo il quinto incendio. Andiamo sul messaggero. Cure primarie. Nasce l'alternativa al pronto soccorso. Apertura nelle pagine di Chieti. Al Santissima annunziata la struttura di raccordo tra medici di base, specialisti e infermieri per limitare gli accessi all'ospedale. Tra Di Primio e Shell piena intesa anche sul distretto dello Scalo. Vecchia sede chiusa da ieri parte la ricerca di nuovi locali. Poi camion da incubo. Strumenti truccati per alterare i tempi di guida degli autisti con l'operazione della Polstrada. Andiamo poi al piano rifiuti da rivedere. Secondo Marsilio il governatore conferma la fiducia all'assessore Campitelli ma ammette rischiato un'emergenza ambientale grave per la discarica in fiamme delle Civeta che preme per sciogliere il contratto con la cupello ambiente. Attesi oggi i dati sull'aria urge mettere in sicurezza l'impianto. La regione respinge così le accuse mentre l'opposizione chiede l'intervento del Ministero dell'Ambiente. Possiamo andare a vedere il servizio. La regione Abruzzo ha iniziato a lavorare un minuto dopo l'incendio della discarica di cupello facendo tutto quello che c'era da fare per evitare qualsiasi tipo di emergenza per il territorio. Il governatore d'Abruzzo Marco Marsilio e l'assessore all'ambiente Nicola Campitelli hanno ribadito oggi in conferenza stampa a pescare il buon lavoro svolto dall'ente con il commissario della discarica e con l'Arta Abruzzo per salvaguardare in primis la salute dei cittadini. E' incredibile che dopo anni di abbandono, di disattenzioni rispetto a una discarica dove stiamo e la procura sta scoprendo di tutto, qualcuno adesso se la prenda con l'amministrazione in carica, con l'assessore che invece è l'unica realtà che ha contribuito e sta contribuendo a scoperchiare questo vaso, rimettere i sindaci nella condizione di capire e di conoscere che cosa avviene in una discarica che è di loro proprietà perché il consorzio è fatto dai comuni e i sindaci stessi che abbiamo riunito più volte e che l'assessore ha riunito altre volte, non solo alla mia presenza. Ci hanno tutti testimoniato gratitudine e riconoscimento di questo lavoro fatto per tornare ad essere davvero partecipi, consapevoli e responsabili di ciò che avviene all'interno di quella discarica, dove peraltro il nostro potere di intervento che stiamo esercitando fino in fondo con un commissariamento e con azioni anche coraggiose e serie per rendere possibile intanto la funzionalità della discarica, evitando un'emergenza che poteva colpire l'intero Abruzzo e poi per ripristinare la legalità e la correttezza e la tutela della salute. Naturalmente tutto nei limiti di un sequestro operato dalla Procura e rispetto al quale stiamo collaborando ovviamente con la Procura nel rispetto delle competenze, che è chiaro che fino ad oggi ha impedito di poter fare alcune delle operazioni perché non si poteva toccare, non si potevano toccare alcune realtà di questa discarica. La regione c'è, è presente, lo è stato dal primo giorno, da quando abbiamo ereditato questa patata bollente che è la discarica di Cupello. È presente e abbiamo fatto tutte le attività, dal primo giorno, anche in questo caso, in prima linea abbiamo dato il nostro supporto per tutelare i cittadini che io rappresento. La mia porta, la porta del mio assessorato è sempre aperta per tutti, ma ha un dialogo costruttivo, un dialogo basato sui numeri, sulle relazioni, sui fatti e non sulla demagogia. Pagine di Teramo sul quotidiano Il Centro, in arrivo 70 posti letto per gli anziani, le cure ai più deboli con l'ASL che prevede di aprire entro Pasqua il centro di demenza senile di Giulianova e quello di Casalena, alternativo all'ospedale. Andiamo a vedere poi nel taglio basso incidente mortale a Colonnella, mistero sul passato dell'albanese. Nella pagina successiva, Silvi, rilancio del borgo che passa per l'albergo diffuso, l'imprenditrice Bindi, l'iniziativa in fase di collaudo, ha dato segnali positivi. Accolte 50 famiglie, il risultato ha contribuito alla sinergia con i commercianti. Poi zona industriale di altri sulle strade Buche ed Erbacce, poi nel taglio basso oggi funerali, Roseto Piangelo, storico benefattore Pino Mazzarella. Andiamo a vedere le pagine di Teramo sul messaggero. Autunno caldo, negozi vuoti, la crisi nera del commercio, Tiberio, Voconi, scaffali pieni di merce purtroppo verrà svenduta con i saldi. Il consorzio shopping sia alla statua di Goldrick darà visibilità alla città. Nel taglio basso, bonifica dell'ex Villeroy e Boc, poi diventerà un centro commerciale. Andiamo avanti, Tribuiani ritira il ricorso, la Lega frena. L'ex candidato a sindaco di Giulianova decide oggi pronto l'annuncio. La retromarcia non piace ai vertici del partito di Salvini. Il segretario d'Eramo nessun accordo con Costantini, ricostruzioni fantasiose, non c'è alcuna trattativa in corso. Andiamo a vedere anche la città per le altre notizie dal Teramano. Dal capoluogo vandalizzato il parco di Via de Albentis, danneggiata la fontana monumentale e le giostrine nei pressi dell'ex scuola, ha creato un pericolo per i più piccoli. Poi pulizia delle scuole, 100 posti a rischio. Su 286 precari ventennali la bozza di decreto interministeriale prevede solo 181 assunzioni. Approvata la bonifica dell'ex Villeroye Boc, 15 mesi di lavori suddivisi in 7 lotti per il ripristino ambientale dei capannoni alla Gammarana. La città dei bambini, gli studenti ripopolano il Museo del Gatto, riparte la convenzione tra il Comune e l'Izeta S. Caporale per le visite guidate degli alunni delle scuole Teramane. Per la viabilità, cantieri aperti a Tottea, Castagneto e Val Vibrata, interventi per circa 300 mila euro per il risanamento dei versanti in frana e la sistemazione degli asfalti. Pagina successiva, schianto tra tir, grave un camionista di Alba, terribile incidente tra mezzi pesanti sulla Sora Cassino. Finisce in ospedale anche un napoletano dopo l'impatto. Uno dei camion ha perso il rimorchio, finito di traverso al centro della trafficata strada. Poi Piccioni torna ad Arriccione con idee nuove per combattere l'erosione a Tortoreto. L'opposizione chiede un consiglio aperto per discutere sulle spiagge ad Alba Adriatica. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro, andiamo nelle pagine dell'Aquila. Le scelte contestate, piano scolastico tutto da rifare, le opposizioni vanno all'attacco, la riorganizzazione degli istituti finisce nel mirino. Chiesta la sospensione del provvedimento, si allarga la protesta culminata nell'assemblea cittadina promossa dai sindacati del settore. Ente camerale chiamata a raccolta delle categorie, mancata fusione votata a Teramo, pod di Confindustria ora in calza a Santilli. Serve un confronto urgente tra tutte le associazioni datoriali del territorio. Ad Avezzano, 5 anni per usura all'ex arbitro Altobelli e poi l'allarme dei confidi, bloccati 20 milioni, fondi restarte, critiche alla regione. La Brigata Maiella ha inaugurato il monumento sul Mona, malvestuto l'ultimo ufficiale, servirà a tramandare i valori democratici ai giovani. Andiamo nelle pagine dell'Aquila sul messaggero, sotto servizi e corsa a ostacoli, 21 vie ancora senza lavori, entro luglio 2020 dovrebbe finire il primo lotto mentre sta per partire il secondo per 10 milioni. Il caso è approdato in commissione territorio a pesare le interferenze con gli altri gestori. Nel taglio basso il Veglione Caos a Fonte Cerreto c'è un patteggiamento, molte le irregolarità emerse dalle indagini. Piano scuole firme per chiedere la revoca, l'opposizione in consiglio comunale critica il provvedimento bloccare la delibera per un anno e revocare la strategia edilizia. Secondo il centro-sinistra è mancato totalmente il confronto, cittadinanza non coinvolta rispetto a un cambiamento radicale. Colpita da meningite, studenti che non entrano in aula al liceo Cotugno, poi nel taglio basso tre giorni speciali con Mogolli, il cantatore uno degli ospiti d'onore di Gong On. Il sindaco ne approfitta per chiedere ulteriori finanziamenti per il jazz. Andiamo adesso nella pagina successiva, stazione e mercato, città nel degrado ad Avezzano, il marciapiede di Piazza Matteotti usato come letto improvvisato da alcuni clochard che dormono per terra. Gli ambulanti stanchi di attendere, mancano autorizzazione, le ruspe sono ferme, i tempi di lavoro si allungano di molto. Nel taglio basso le altre notizie, brevettato un metodo che fa ricrescere le ciglia sul Mona e generare sui pazienti psichiatrici a Castel di Sangro. Maxi controllo antidroga della Guardia di Finanza d'Avezzano e parte la più grande centrale Enel della regione a Celano. Siamo così arrivati alle pagine di Sport, restiamo sul messaggero all'apertura dell'Abruzzo Sport e con il Pescara. Zauri rischia grosso, le sfide contro Benevento e Juve Stabia, banco di prova decisiva per l'allenatore. Il presidente dice sono arrabbiato e deluso, la squadra deve mettere anima in campo. L'ascolteremo tra pochissimo Sebastiani, intanto Primavera con la Fiorentina un 3-3 spettacolare per il basket, sempre su questa pagina. Sharks, Bizzozzi, Aristide farà meglio. Andiamo a vedere l'apertura dello sport sul centro. Si parla di Drudi, io la gavetta e il trampolino Pescara da barman a calciatore e la crisi, siamo tutti con Zauri. Poi Fiorillo, tre gare per risalire la chine, il capitano rientro sabato con il Benevento, i Rangers fuori. Il carattere hanno diramato ieri un comunicato. E poi noi da Salvezza puntiamo più in alto. Sebastiani, non condivido il pensiero di Zauri, oggi si discute sul caso Macin e noi possiamo andare ad ascoltare proprio Sebastiani nel servizio. Non è un momento facile per il Pescara. Il prossimo trittico di partite in sette giorni, a cominciare da quella con la capolista Benevento, sarà forse decisivo per indirizzare la stagione del Delfino. Lunedì squadra e staff tecnico hanno avuto un lungo confronto che il presidente Daniele Sebastiani ha osservato a distanza. Credo che quando ci siano dei momenti di difficoltà sia giusto che l'allenatore ne discuta con chi poi va in campo e quindi deve seguire i suoi dettami. Hanno avuto un lungo colloquio, mi auguro che questo porti qualche frutto già da sabato prossimo. Bisogna lottare fino alla fine delle partite, non c'è mai una partita scontata, quindi noi dobbiamo metterci quella caratteristica là che in questo campionato sto vedendo poco. Questo mi dispiace. Trittico decisivo in particolare per il tecnico Luciano Zauri. Siamo solo ad ottobre, non sono d'accordo con lui quando dice che il Pescara deve salvarsi e glielo ho anche detto. In questo momento l'obiettivo è giocare meglio e pensare a fare punti, dice Sebastiani, che però aggiunge. Sapete che io ho sempre difeso gli allenatori anche quando non c'era da difendere forse, però credo che un alibi almeno questo allenatore ce l'abbia, cioè il fatto di essere partito. Questa è una squadra che l'anno scorso è arrivata nelle semifinali di play-off. Abbiamo sostituito fondamentalmente due o tre giocatori e i due o tre giocatori che sono arrivati in sostituzione purtroppo si sono fatti male. E quindi questo è comunque per uno che aveva un'idea, che aveva iniziato a fare un certo tipo di lavoro, si trova già dall'inizio a non poterlo fare. Una piccola scusante è, è chiaro che la squadra è una rosa abbastanza attrezzata, quindi bisognerà trovare i correttivi anche in fretta e lui è quello che sta facendo. L'ultima è preoccupato e tranquillo per il deferimento, domani ci sarà la discussione? No, domani sono con molta tranquillità da discutere perché credo veramente che il Pescara non abbia nessun tipo di responsabilità in questo discorso, anzi, ho sempre detto che mi pare strano che ad essere deferito il presidente del Pescara considerando che stiamo parlando di una denuncia arrivata da un procuratore che non aveva la procura del giocatore. Adesso la Serie C, turno infrasettimanale ieri per il Teramo che fa festa, primo colpo in trasferta, Biancorossi che sbancano, Francavilla Fontana apre Martignago su rigore e poi nel finale chiude Bombaggi in contropiede. Partita finita 2-0, Terino schiera, il 3-5-2 lascia tanti big in panchina, il portiere Tomei salva più volte il risultato, il diavolo gioca bene per un'ora, poi si schiaccia troppo e soffre nel finale prima del gol del 2-0 al 94esimo. Tra poco andremo a vedere il servizio, le reazioni, Terino grande sacrificio, ora niente voli pindarici, il tecnico Biancorosso è soddisfatto, mi è piaciuta la capacità di saper soffrire. Per le altre partite il Bari di Vivarini stende il Catanzaro, Blitz Avellino in casa della Ternana, poker della capolista regina. Andiamo a vedere il titolo sul Teramo anche del messaggero. Teramo trasferta fortunata, gli uomini di Tedino centrano la prima vittoria fuori casa con il rigore di Martignago e la rete nella ripresa di Bombaggi, con la Virtus Francavilla finisce 2-0 per i Biancorossi. Tomei e i due legni fermano molte occasioni degli avversari, l'allenatore dice la squadra mi è piaciuta. Andiamo a vedere anche il titolo della città, il Teramo può gioire lontano dal Bonolis, i Biancorossi battono la Virtus Francavilla 2-0 e festeggiano il primo successo esterno in campionato. Terino ha cambiato modulo, per la prima volta il Teramo ha giocato col 3-5-2 dal primo minuto e noi andiamo a vedere proprio la partita nel servizio. Il Teramo interrompe l'astinenza da trasferta e passa lontano dal Bonolis con un gol per tempo sul campo della Virtus Francavilla con una prova di grande tenacia e compattezza, soffrendo quando si doveva ma senza mai rinunciare ad attaccare. Rispetto alla gara vinta con la Paganese, Tedino opera una rivoluzione sia come uomini, cambiandone 7 su 11, sia come modulo poiché passa al 5-3-2. Cristini al centro con i Piacentini e Iotti, Florio per Cancellotti, la coppia Cianci-Martignago in avanti. Schieramento speculare a quello della Virtus Francavilla, il cui tecnico Trocini deve rinunciare a diversi elementi, tra cui Tiritiello e Basquez. Peso dell'attacco in sostanza sulle spalle di Leonardo Perez, che si fa notare con una conclusione dopo 4 minuti e un avvio al piccolo trotto per le due squadre. L'equilibrio si rompe dopo 20 minuti quando i Biancorossi usufruiscono di un corner dopo tiro deviato di Florio. Sugli sviluppi, palla al limite, dove Santoro scarica un sinistro violento intercettato con un braccio da Di Cosmo. Cosso di Reggio Calabria concede un calcio di rigore che consente a Riccardo Martignago di sbloccare lo scorso del personale e segnare il primo gol in Magliateramo. I Biancorossi vogliono approfittare dello sbandamento dei padroni di casa e alla mezz'ora troverebbero il secondo gol quando Cianci si avventa e forse sfiora una punizione di Costa Ferrera, ma la rete è annullata per fuorigioco del centroavanti. Sul ribaltamento di fronte è Sbilenco, il diagonale di Puntoriere. La Virtus Francavilla fa fatica contro l'attenta fase difensiva del Teramo e si fa vedere negli ultimi minuti in particolare con un rasoterra potente di Perez disinnescato da Tomei. Ad inizio di ripresa Tedino inserisce subito Magniaghi al posto di Cianci ed il Teramo si fa vedere dopo 70 secondi con un fendente di Costa Ferrera corretto in corner dall'omonimo Costa che deve ripetersi all'ottavo sul calcio piazzato insidioso di Arrigoni. La Virtus risponde dopo un paio di minuti, ancora una punizione che l'ex lancianese Nunzella va a stampare contro il palo. Tomei invece si esalta al diciottesimo, torre di Perez per Bovo che accorre sul secondo palo ma trova la strada sbarrata dall'estremo Teramano in gran giornata. La pressione della Virtus sale e Tedino ricorre a forze fresche inserendo Ilari, Viero e Bombaggi per Martignago, Arrigoni e Costa Ferrera. Trocini si gioca le carte, Mastro Pietro e Baclet ma è sempre Perez il giocatore più insidioso. Iotti per deviarne un cross basso rischia l'autogol, carambola sul palo. Il Teramo non se ne sta solo sulla difensiva e al trentanomesimo una grande opportunità per lo 0-2 con Ilari che raccoglie il cross di Santoro, controlla e spara quasi dal dischetto del rigore ma Costa si salva distinto. Nel primo dei cinque minuti di recupero ancora sugli scudi Tomei quando dice no al colpo di testa di Caporale a botta sicura. Finale concitato, Caporale trova il gol dell'1-1 un minuto dopo annullato però per un precedente fuorigioco di Perez e al cinquantesimo con Brian Costa nell'area Teramana parte il contropede del Teramo. Santoro serve a Bombaggi il pallone dello 0-2. La svolta forse è arrivata e la risalita in classifica può iniziare per il Teramo. A confermarlo dovranno essere le prossime due gare casalinghe con Casertana e Bisceglie. Chiudiamo con la Serie D. Vastese, il Milan chiama Cavuoti il baby talento da lunedì in prova con le giovanili rossonere Palumbo. Stop di 15 giorni. E noi ci fermiamo adesso con la rassegna stampa. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina. mattino 6 torna domani alle ore 8. La nostra informazione oggi come sempre alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. E vi ricordo anche questa sera alle 21 l'appuntamento con Velo è davvero tutto. Vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.